Probabilmente con quella fase di vita che hai avuto, poi sei riuscito a compensare in una maniera e a recuperare perché tutti questi amici che sono qui per te, per ascoltarti, non solo per leggere il tuo libro ma anche per testimoniarti la loro vicinanza, probabilmente sono andati a compensare gli amici che non avevi dietro la vetrina di quella batteria che stai sotto. Hai colto, hai colto, io senza gli amici, senza Bagnuolo, senza Gianni Monda, senza loro, non riesco a stare, a Marina ho scritto adesso ti voglio bene sul libro ma perché memore di quella situazione, se mi togli gli amici mi togli una parte importante di me a tutti ti voglio bene scritto L'alternativa ti voglio bene, siccome ho seguito un po' le operazioni di tutte e tre i libri di Mimmo ci sono tramonti che non tramontano mai è una dedica che abbiamo fatto il timbro è un po' le operazioni di Mimmo è un po' le operazioni di Mimmo